Ma che sono, siamo agli ultimi sette giorni ormai sul modo di campagna elettorale. Io ho definito Staranzano un po' una sorta di piccola gorizia dove la gente bene o male vive tranquilla, non ha grandi ambizioni, grandi aspettative, c'è il suo concorrente che dice no bisogna dare un'altra svolta, avere più ambizioni, ecco da questo punto di vista, questo territorio cosa vuole secondo lei? Ma io direi che non sta così, le cose non stanno così perché le ambizioni ci sono, noi abbiamo qui moltissime associazioni, fra l'altro di eccellenza, vantiamo dei titoli italiani, campioni italiani del basket e del baseball under 12, abbiamo fatto grandissimi risultati anche nella Palavolo, siamo arrivati con la femminile in serie B, abbiamo la compagnia del caro che tutti quanti la conoscete, abbiamo l'associazione calcistica che ha fatto nell'arco di due anni, ha fatto tre salti addirittura, tre anni tre salti di categoria, quindi le ambizioni, le associazioni qui ci sono di eccellenza, non direi che c'è questa patina, come è stata detta, questa patina grigia su Staranzano, Staranzano ha detto bene lei, qui è tranquilla, si vive bene, la qualità della vita è molto buona e alla gente questo gli va bene. In un territorio dove non c'è un problema di richiedenti asilo, come magari in tante altre città d'Italia, vedi anche Trieste, l'effetto lega qui quanto può trainare in un momento in cui bene o male si punta molto su quello? Questa è una domanda la quale è difficile dare una risposta, l'effetto lega quanto potrà trainare qui. Per quanto riguarda invece l'accoglienza, in questi anni sfido chiunque a dire che si è accorto che a Staranzano ci sono state una media di circa 18-20 ragazzi richiedenti asilo, che ci sono anche integrati, alcuni abitano addirittura a Staranzano e lavorano nel territorio, stanno qui, credo che questa sia la cosa più bella che sia venuto fuori dall'accoglienza in questa maniera fatta con il progetto Isplano. Ha visto che si è sempre che Monfalcone via Staranzano, facciamo che Staranzano va un attimo a Monfalcone, non si fa differenza tra richiedenti asilo e invece stranieri che vengono nel territorio per lavorare, perché l'impressione mia a volte è che si faccia di tutto un erbo a un fascio. Sì, questo ha ragione, si fa spesso di tutto un erbo a un fascio, ma bisogna distinguere, coloro i quali lavorano alla fincantieri di Monfalcone sono degli operai che risiedono a Monfalcone, lavorano sul territorio nostro, portano una ricchezza anche sul nostro territorio, è una comunità molto importante la quale ovviamente va governata.